Definiti gli otto parlamentari che rappresenteranno la nostra isola e la Sardegna al prossimo Parlamento europeo. Sono Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, conosciuto in tutto il mondo, che è stato il più votato nel PD e il secondo nella discorscrizione delle isole solo a Salvini, con 135.098 preferenze. Quindi sempre per il PD viene riconfermata Caterina Chinnici, figlia del magistrato, con 112.256 voti nel collegio, distanziando nettamente l'uscente Michela Giuffrida, che ha ottenuto solo 49.226 preferenze. Giuseppe Milazzo, per forse tale, è stato il secondo per voti dopo Berlusconi. Milazzo ovviamente prenderà il posto a Bruxelles, solo dopo che Silvio Berlusconi, eletto in altri collegi, oppiterà per altri liri. Le preferenze ottenute per Milazzo, attuale capogruppo parlamentare all'Ars, sono state 74.227. Non ce l'ha fatta invece Saverio Romano, appoggiato dall'area centrista, ex-spid e area autonomista, sperando magari in un maggior numero di voti che potesse far scattare anche il secondo seggio a Forza Italia. Raffaele Sanganelli rappresenterà per la prima volta il nostro collegio, il partito della Meloni a Bruxelles. Sanganelli attualmente è senatore della Repubblica, è stato ex sindaco di Catania ed ex assessore regionale all'Ars. Ha ottenuto 30.229 preferenze. Anche lui verrà eletto se la Meloni rinuncerà al seggio per optare a un altro collegio dove è stata anche eletta. Le novità maggiori sono in Casa Lega, dove c'è da registrare, come nel giro di un anno, dalle scorse elezioni regionali a oggi, conquista un consenso fuori dall'ordinario. Il partito di Salvini, Annalisa Tardino, licatese, noto avvocato, ha ottenuto 32.767 voti nel collegio ed è stata la vera sorpresa di questo voto. La Tardino era candidata come sindaco alle scorse elezioni a primo cittadino di Licata, senza ottenere particolare successo. Ha superato grossi calibri, come il catenese Angelo Attaguille. Anche la Tardino dovrà sperare ora che Salvini opterà per un altro collegio dove è stato anche eletto. Altra presenza in Casa Lega, che ci rappresenterà a Bruxelles, è l'avvocatessa palermitana Francesca Donato, che ha conquistato nel collegio insulare 28.700 voti. Non ce l'ha fatta invece Igor Gelarda, che in tanti speravano una sua vittoria, sostenuto da tanti grossi imprenditori agrigentini, come ad esempio Silvio Alessi, ex patron dell'Acragas. Per finire il nostro quadro, risultato scoppiettante per 5 Stelle, partito che si riconferma il primo in Sicilia. Elette sono la ex Iena Dino Gianrusso, che viene confermato con 108.146 preferenze, il più votato nella lista di Di Maio. A seguire, l'uscendo Ignazio Corrao, romano di nascita, ma palermitano di adezione. Riconferma così il suo seggio a Bruxelles, dopo 5 anni di sua presenza. Il partito più votato è 15 Stelle, con il 32,7%, a seguire il PD con il 18,7%, quindi al terzo posto la Lega, che arriva al 17,4%. Forse Italia, il quarto partito, arriva al 14,4%. Fratelli d'Italia raggiunge il 4,4%. Gli altri partiti in lista non superano la soglia del 4%. Perchè, il primo partito, arriva al 14,7%, a seguire il 4,7%, a seguire il 4,7%, a seguire il 4,7%, a seguire il 4,7%. Grazie a tutti